Policlinico di Roma Entriamo nella camera dell'onorevole Togliatti Appena le condizioni di salute lo hanno reso possibile il chirurgo professor Baldoni e i medici curanti ci hanno consentito di chiedergli una intervista per la settimana Incom Desidero prima di tutto rivolgere un ringraziamento e esprimere la mia riconoscenza al professor Baldoni che mi ha operato al professor Fugoni che mi ha assistito come clinico io so che senza l'assistenza di questi due grandi scienziati italiani forse non avrei salvato la mia vita e insieme con loro io ringrazio tutti i medici gli assistenti le infermieri e gli infermieri qui della clinica e tutti quelli che da tutta l'Italia e da fuori d'Italia mi hanno mandato l'espressione del loro affetto i loro saluti i loro auguri le mie forze non sono ancora molto grandi però sono fuori pericolo e assicuro tutti i compagni che a suo tempo saprò essere di nuovo al mio posto di lavoro grazie a tutti grazie a tutti